è arrivato altro cibo in questo momento guardate sono le 6 e 12 minuti è arrivato altro cibo uno dei furli l'ha preso e se lo ha portato via credo che quello sia giù guardiamo meglio dovrebbero arrivare anche gli altri e dovrebbero arrivare da destra lì se ne intravede uno ma degli altri non c'è traccia perché avevano già un'altra preda da da terminare aspettiamo un attimo per vedere cosa succede è strano che non arrivino gli altri ad accogliere il padre con la preda c'era soltanto uno dei quattro pulli non si sente più niente non si vede niente nel video precedente avevamo due pulli sulla destra che mangiavano una preda piuttosto grossa e un pullo a sinistra che guardava l'orizzonte ora abbiamo visto arrivare il gioco con una grossa preda ma soltanto uno dei figli era lì ad accogliere la colazione gli altri due anzi a questo punto gli altri tre non sappiamo che fine hanno fatto nonSorry io sono